Anno nuovo, tradizione consolidata, massiccia partecipazione di atleti e tecnici, gradita presenza di coach di spessore nazionale e soprattutto il ricordo di un amico che non c'è più. È stata intitolata la memoria dell'indimenticato Roberto Barba Pavalino anche la terza edizione dell'American Football Camp, in programma ieri ed oggi sul sintetico del Manzichi Apulin e presso la tensostruttura presente all'interno dell'impianto di Via dei Mandorli. L'evento, organizzato dai Madballs e fortemente voluto dal vicepresidente Manuel Marzocca, ha coinvolto circa 50 partecipanti tra atleti e tecnici della Puglia. È sempre il ricordo del nostro coach, amico, compagno di tante avventure e battaglie sportive sul campo e vuole essere sempre un ricordo ripetuto, un ricordo in suo onore perché i coach vanno onorati in questa maniera. E poi è comunque sempre la base del nostro programma di miglioramento, di ampliamento tecnico, tattico, anche di reclutamento della squadra. E pertanto cerchiamo di mantenere sempre vivo questo evento e riusciamo a farlo grazie alla partecipazione di giocatori che quest'anno sono venuti un po' da tutta la Puglia. Quindi c'è gente che vuole mettersi in gioco, vuole affrontare assieme a noi la seconda divisione. Insomma, una sfida importante che merita attenzione e merita i nostri sforzi. Di primo ordine anche quest'anno il coaching staff del camp, grazie alla presenza di Giorgio Longhi, responsabile del settore tecnico della federazione, ed Andrea Vecchi, offensive coordinator dei gloriosi Rhinos Milano. Quest'anno abbiamo cambiato qualcosina, nel senso che abbiamo sviluppato nella giornata di ieri, siamo partiti su dei fondamentali di tecnica, affinando delle tecniche nuove per aiutare questi ragazzi a crescere. E oggi invece stiamo lavorando sul campo, installando già dei giochi di corsa, di passaggio, che saranno usati quest'anno in campionato dai Mad Bulls. I miglioramenti rispetto alle precedenti edizioni dal punto di vista qualitativo sono tangibili. Quest'anno in effetti c'è una partecipazione maggiore, probabilmente anche perché l'organizzazione ha concentrato l'evento su due giornate e non più su quattro, quindi concentrandola su due c'è stata una maggiore partecipazione, anche a livello di coach che sono venuti dall'esterno per vedere, insomma, per partecipare a questo evento. L'American Football Camp di fatto ha aperto la stagione dei Mad Bulls, che parteciperanno per il secondo anno consecutivo, al campionato di Second Division al Via nel mese di febbraio. Questo camp è l'inizio della nuova avventura, quest'anno abbiamo organizzato un attimino diversamente le cose, anche perché contiamo di avere questi nuovi atleti che verranno da Brindisi, da Lecce, e speriamo anche da altre realtà, da altre zone, non siamo assolutamente chiusi da questo punto di vista, e quindi abbiamo strutturato questo camp come l'avvio dell'attività, anche perché abbiamo creato assieme a Bari e a Lecce il cosiddetto Puglia Team, una squadra che affronterà il campionato nazionale di Under-19.